Ciao a tutti e a tutte e benvenuti a Oltre le parole, la vostra rubrica di Transcreation. L'ironia è una cosa seria. Tonno di voci ironico parte seconda. Continuiamo il viaggio nei toni di voci ironici con il secondo e ultimo appuntamento di questa serie. Per deliziarvi con un po' di sana ironia, ho setacciato il web alla ricerca di brand simpatici da farvi conoscere e transcreare. Vediamo se riusciamo a destreggiarci tra queste voci piene di sottintesi. Ironia diretta e complice, Friday Baby. Si definisce the who I do call in the middle of the night cause my baby won't stop screaming brand. Il brand che risponde quando ti chiedi chi puoi mai chiamare nel bel mezzo della notte perché il tuo bebè non vuole smetterla di urlare. In pratica è il punto di riferimento per sapere tutto, ma proprio tutto, su gioie e dolori della genitorialità. Con un linguaggio diretto ironico, ma soprattutto complice e non paternalistico, parla ai genitori con la schiettezza di una sorella maggiore o di una zia alla Marmaionchi. Perché diciamocelo, anche se è quella di nostro figlio, la popò è sempre popò. A tal proposito, guardate che simpatica questa immagine che accompagnava un post social. Se dovessimo transcreare il titolo, dovremmo giocare sullo stesso piano, ovvero portare l'espressione Picaboo, che si usa quando si cerca di sorprendere un bambino nascondendosi il viso dietro le mani, su un terreno minato. Infatti, Bù diventa Pù, cacca, e Pic ricorda Pic, raccogliere in questo caso. Avete capito bene, la sorpresa qui è proprio lei e c'è poco da ridere. A me è venuto in mente un ironico Pupù, sette te, pensando alla faccia della mamma che apre l'odoroso pacchetto. Oppure qualcosa tipo pacco a sorpresa, ah no, o un allusivo niente popò di meno che. In un progetto reale, tuttavia, ricordiamoci di simulare le nostre soluzioni su un impaginato semifinito. Insomma, le possibilità da esplorare sono tante. A voi viene in mente un modo per transcreare questo copy? In Brand Language, Tone of Voice, Leeds-Juig afferma che il tono ironico non è sempre uguale a se stesso. Anzi, spazia da un'estremità all'altra sulla scala dell'ironia. Per esempio, può diventare over-familiar o matey, molto familiare e casual, insomma. E in questo caso si addice di più a chi condivide esperienze piuttosto che competenze. In sostanza, dice Dewey, è il tono che si adatta a un deodorante che promette di farti diventare un sex symbol. E mi credereste se vi dicessi che io quel deodorante l'ho trovato davvero? Ironia ammiccante un po' sarcastica. Old Spice. Con Old Spice è tutto un gioco di ammiccamenti e d'ironia sul profumo della mascolinità, sul sentirsi sicuri di sé grazie al deodorante, e sul fatto che il nostro uomo potrebbe forse aspirare a essere affascinante come il modello, se usassi il loro deodorante. Anche se a volte sono pungenti come aghi di pino, non sono mai sfacciati. Andate a vedere il commercial The Man Your Man Could Smell Like, o qualsiasi altra pubblicità del brand. Risate assicurate. Ehi, ma mica vorremmo lasciare questo brand senza transcrearlo? Come rendereste questo Smellcom? Urban Dictionary ci dice che è un altro modo per definire welcome, però in maniera più maliziosa. E infatti si adatta benissimo anche col prodotto. Ironia Serafica. Hans Brinker Hotel. Sono i re dell'understatement, ovvero fanno autoironia denigrandosi con estrema raffinatezza. L'effetto ottenuto però è tutt'altro che dissuasivo. Questo stello della gioventù di Amsterdam risveglia la curiosità del lettore e la sua si rivela una strategia vincente. L'aspetto più difficile per un transcreator è dosare il tono di voce. Una parola fuori posto, infatti, e si rischia di sconfinare nel cinismo. Una sfumatura estranea allo stile del brand. Lo sanno bene i partecipanti al nostro corso di Transcreation, che si sono misurati con i loro testi. Un assaggio? Hans Brinker Budget Hotel. Eco-friendly, per puro caso. Prima di lasciarci, che ne direste di fare palestra con queste due locandine per la sede portoghese dell'ostello? La prossima settimana si conclude il nostro viaggio nei toni di voce con quello più difficile in assoluto da mantenere nel tempo, il tono di voce aggressivo, come lo chiama Valentina Falcinelli. Ne approfitto anche per chiedervi se ci sono argomenti che vi piacerebbe affrontare o approfondire in Transcreation o che semplicemente vi incuriosiscono. Avanti, fuori il rospo. Io nel frattempo vi do appuntamento tra due settimane. Ciao, ciao! Ciao!